Ciao a tutti, in questo video ve lo presentare una poesia haiku di Kobayashi Issa. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramascon, che iscriviti al nuovo canale, felicità benessere di tutti i posti, link in descrizione. Veniamo alla poesia haiku di Kobayashi Issa. Prendiamo il sentiero paludoso per arrivare alle nuvole. Brevissimi questi haiku ma molto evocativi, ci fanno capire come talvolta per salire in cielo dobbiamo strisciare per terra prima. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramascon, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità benessere di tutti i posti e link in descrizione. Ciao a tutti.